Ragazzi, l'Italia femminile vince contro la Svizzera 0-1 e passa in vantaggio nella classifica delle qualificazioni ai mondiali. Ragazzi, adesso è tutto nelle nostre mani. È tutto nelle nostre mani perché la Svizzera aveva vinto all'andata, però poi ha pareggiato con forse la Moldavia, mi sembra. E quindi a questo punto l'abbiamo sorpassata vincendo contro di lei e adesso è tutto nelle nostre mani. Ci mancano due partite di qualificazioni mondiali, una con la Moldavia, mi sembra, e l'altra con la Romania, forse. Ragazzi, dobbiamo vincerle. Se le vinciamo, passiamo ai mondiali, ci qualifichiamo. Quindi, attenzione ragazze e dai, dai, mamma mia. Non pensavo, sinceramente non pensavo perché dopo l'andata in cui abbiamo perso in casa con la Svizzera, la vedevo un po' grigia. Poi però la Svizzera ha pareggiato e lì ho detto, beh, vincendo oggi. Insomma, oggi i ragazzi hanno vinto, ho iniziato a vedere la partita dal 65esimo, mi sembra. Quindi in tempo per vedere il gol. Girelli verso l'ottantesimo da calcio di punizione, guadagnato tra l'altro da Rosucci che era appena entrata, che praticamente ha fatto un cross e ha preso l'avversaria sulle braccia perché ha saltato così l'avversaria e l'ha presa qua. Vabbè, punizione guadagnata appunto da Rosucci al limite, Girelli la mette dentro diretta. Dicono che ci sia stata una live deviazione con la coda dell'avversaria. Beh, mi sa che quell'avversaria lì a sto punto inizierà a portare lo scignonna perché, cioè, vabbè, sarebbe fantastico, veramente. In ogni caso, appunto, gol di Girelli la punizione, noi vinciamo e passiamo in testa alla classifica. Quindi dai ragazze che ce la possiamo fare, possiamo qualificarci a sti mondiali. E niente ragazzi, sempre forza azzurre e loro sì che danno un po' di soddisfazioni, però adesso stiamo attenti e non sottovalutiamo la Romania e la Moldavia. Ciao ragazzi, sempre forza azzurre.